Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi. Ma in fondo è colpa mia se si è liberata. Sì, è colpa tua. Ma non ti lascerò morire così. E perché non ti ha aggredito? È parte del suo protocollo di imprending. Non possono averlo realizzato. Prendi. Contiene campione di tessuto. Trovano. Sistema tutto. Dai su, Vivi. Dove sei? Dove sei? Grazie. 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 Alan, credo che si trovi oltre questa porta, ma è chiusa a chiave. Prova a corrotere la serratura. Ora sei nell'ultimo punto, giusto? Guarda nei nostri bagagli. Khi ora stai insolo. virtues boi, giusto? Impost exciting. Grazie. Grazie a tutti. Sei arrabbiata con me, mamma? No, Evie, non sono arrabbiata Aspetta, come mi hai chiamato? Non voglio più vivere al laboratorio, voglio una casa E tu sarai la mia mammina Va bene, Evie, sarò la tua mammina Ma adesso vieni subito con me, ok? Dove sei, Evie? Evie, Evie, aspetta! L'hai trovata? Sì, ma hai fuggita Sta generando altre creature, Alan, sono ovunque Proprio come sospettavo Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Evelyn Bazza... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il sistema di isolamento d'emergenza è stato attivato. Grazie a tutti. 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 No. No. Grazie a tutti. Ti ho mentito. Adesso staremo insieme per sempre. No. 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 No.